E in città è caccia alle mascherine, qui ci troviamo davanti l'unica farmacia della città che in questo momento ha delle scorte disponibili. Vedete una lunga fila di persone all'esterno che sta aspettando di prelevare la propria mascherina prenotata nei giorni scorsi. In queste ultime ore sui social si è scatenata una vera e propria polemica rispetto al prezzo delle mascherine. Una singola mascherina venduta a 15 euro e molti hanno gridato allo sciacallaggio. Noi siamo venuti qui per sentire proprio il titolare della farmacia e cercare di farci spiegare per quale motivo ha applicato questo prezzo e adesso lo andiamo a scoprire. Dottore, quella che è dosso è la mascherina e la discordia, impazza la polemica sui social in questi giorni. Tra l'altro una delle poche farmacie, forse l'unica farmacia in città che ancora ha delle mascherine, ma la polemica nasce proprio sul prezzo. 15 euro a mascherina e molti l'hanno accusata di fare sciacallaggio su un'emergenza. Che cosa vuole dire in proposito? Allora, io mi sono messo a disassociazione della città, non capisco perché mi si taccia di sciacallaggio quando io le compro queste mascherine allo stesso prezzo e qui le vende, in modo da dare alla città il servizio che ritengo necessario. Purtroppo mi sono state dette tante parole, però io non ho più di quello che faccio, non so cosa devo fare. Vado a prendere queste mascherine, le faccio trovare a chi me le pronoti, io dico guardate a me le vendono con questo prezzo, chi le vuole le può prenotare, perché non ce l'ha nessuno, sono irreperibili, i prezzi sono altissimi. Cioè qua mi pare di dire che il prezzo normale di questa mascherina in tempi normali era intorno a 10-11 euro, perché 8 più va al 22%. Anzi, prima la richiesta era molto più esossa, prima sono partita da 25 euro, io ovviamente non sono stato. Però ho combattuto, ho lottato per la città di Gela in modo da poter un pochino coprire, da questo punto di vista per quelle necessità, la città di Gela. Sono riuscito a scendere a 15 euro, quindi io faccio, la mattina vado a prendere, il poveriggio vado a prendere, dietro le prenotazioni. Lo dico sempre, ragazzi, lo so che il prezzo è esossa, perché non sarebbe così, sono 5 euro in più, 4 euro in più, nel tempi normali non ci sarebbero. Però dico sempre, se volete, il prezzo è questo, lo vi faccio presente sempre prima, ragazzi, questo è il prezzo. Se ho le politiche, per la notte, mi faccio fare i soldi, mi faccio dare i nomi, mi faccio fare tutto, in modo da poter avere a disposizione le mascherine per poterle dare. Il dottor Bordonaro ci tiene a sottolineare che fino ad oggi ha effettuato la vendita rivendendo il prodotto allo stesso prezzo di quanto lo acquista dai fornitori, senza caricare in più un solo euro. Io, allora, a questo punto ci ho appesso, perché ho dato gratis ai vigili urbane, alla protezione civile, ho contribuito col 50%. Sto facendo di tutto per dare modo alle persone di avere questa mascherina, con la fortuna che abbiamo di averle, perché nessuno ce l'ha. So che nel giornale è uscito addirittura che l'hanno venduto a 60 euro a mascherina, però, 60 euro a mascherina, però voglio dire, io non ce l'ho arrivato a questo punto perché non mi interessava fare questa legenda. Per cui, non so più che cosa fare, cioè mi sacrifico, non mangio più, non dormo più, sono sempre a disposizione della città, però essere da tanto così, vabbè, vuol dire che merito a questo, non so più che cosa fare. E proprio mentre stavamo facendo l'intervista è arrivata anche una pattuglia della Guardia di Finanza, in questo momento stanno esaminando le fatture, la documentazione relativa alle mascherine per vedere se è tutto in regola. Un atto dovuto sicuramente, considerato che in questo periodo da altre parti d'Italia c'è un vero e proprio sciagallaggio per quel che riguarda la vendita di questi presidi importantissimi in questo periodo. E dopo quasi un'ora di spezioni e controlli, le Fiamme Gialle hanno deciso di sequestrare l'intera fornitura di mascherine presente nel magazzino del negozio. Le persone che attendevano di ritirare i prodotti prenotati sono andati via a mani vuote. Toccherà adesso agli inquirenti a testare se tutto è stato fatto nella piena regolarità.